Il nostro filmato, voi dovete sapere che ogni anno noi ci lasciamo con i giovani, Ciccia lo sa, ormai lo sanno tutti, coloro che partecipano, noi ci lasciamo sempre con dei bravissimi professionisti, perché Federico Maio, la vediamo la sua clip, insieme a Carmelo Cambria, che stasera non c'è perché a Divari, ma poi bastonatone, vabbè, perché sono degli artisti professionisti, io li chiamiamo emergenti, ma io dico che sono talmente bravi, che sembra Federico che siete già da 20-30 anni che fate questo mestiere, quindi nasce un connubio con Federico Maio e Carmelo Cambria, ventitresima strada, la loro produzione, poi diremo perché nasce questo connubio, perché ci dobbiamo lasciare stasera con questo prossimo appuntamento, e che è quello che ha portato Ciccia sempre bene ai giovani questo premio e quindi sono certa che lo farà anche con voi. Prego. Regia. 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 Grazie a tutti. 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 Tra le altre cose che facciamo, avendo preso la decisione di rimanere in Sicilia, perché il cinema non è solo a Roma. Finalmente Messina Cinema fa capire come il nostro Festival Sicili Film Awards, che il cinema finalmente arriva in Sicilia e lo possiamo fare anche noi che siamo ragazzi. Bravo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ora voglio sul palco qui.